C'è una cosa che tutti hanno in comune, la voglia di arrivare in alto. Sono il CEO della più grande azienda fintech d'Europa. Questo è Magnus E. Kramer. Il CEO della Cable Cash. Voi siete come le rock star del mondo delle start-up. Programmando il più grande lancio in borsa nella storia della Germania. Pausa. Cosa potrebbe andare storto ora? A ogni passo verso l'alto c'è qualcun altro che cerca di spingerti di nuovo in basso. Abusi, traffico di esseri umani e riciclaggio di denaro. Abbiamo giornalisti che ci stanno con il fiato sul collo e che ci tengono ad occhio come falchi. Non è che adesso sono diventato una specie di re sole pazzo che ha completamente perso il contatto con la realtà. Perché più in alto sali, più in basso puoi cadere. Dobbiamo sistemarvi prima che siano troppo grandi. Quando mi gira bene, le azioni vanno bene. Io sono... L'azione! Senti, noi due siamo così. Contro i pezzi grossi. State a guardare. Forse non siamo così eleganti e belli come altre aziende, ma... Siamo una famiglia.